con il direttore sportivo Marcello Carli nel giorno della presentazione di mister Gianpaolo da oggi parte ufficialmente la stagione duemila quindici duemila se parte da un tecnico che fortemente avete voluto non avete vagliati nemmeno altri la nostra stagione è partita da da Torino nel senso da quando siamo stati salvi poi alla fine la nostra stagione è partita di lì a di là di tutto quello che purtroppo immediatamente viene fuori che mi sembra neanche più controllabile e io non ci perdo più neanche tempo a smentire no perché tanto è una perdita di tempo e quindi stiamo andando verso questa direzione vengono scritte l'ottanta per cento di cose che non sono assolutamente vere però noi da Torino dopo aver festeggiato abbiamo finito il campionato ma già da lì è la partita nostra stagione quindi è partita da lì oggi c'è un'altra tappa della nuova stagione è una tappa importantissima soprattutto per l'ambiente non per noi perché noi avevamo già la convinzione e il credo di prendere Marco perché avevamo le nostre convinzioni è una scelta mia quindi non non mi nascondo dietro a niente non non è che è una cosa il presidente me l'ha fatta portare avanti perché poi l'ha condivisa perché ci mancherebbe altro io poi tutte le sono le mie idee le spongo a Fabrizio e Fabrizio me la fa portare avanti perché anche lui ci rede però mi prendo le responsabilità perché è sempre stata la mia scelta una mia idea un mio pallino che avevo da tanti anni ora mi sembrava ci fossero le condizioni per poter iniziare questo percorso ho trovato risconti importanti di una persona che aveva grande entusiasmo e grande voglia di rimettersi in gioco e vedeva impone come una politica straordinaria e quindi secondo me c'era una condizione per poter partire io era già da tanto tempo già che lo sapevo e quindi non è stata una scelta fatta oggi ma scelta fatta perlomeno da un mese. Quali sono le cose che maggiormente ti hanno convinto appunto a perseguire questa strada e a portare oggi Marco Giampaolo ad Empoli? Ma quello che ha detto Marco in conferenza io non l'ho assistito perché poi giustamente c'era il presidente ed era giusto che lo presentasse il presidente e poi dopo è sicuramente la persona più importante della società perché la società è di Fabrizio Corse e quindi era giusto che lo presentasse Fabrizio ed era giusto che insieme iniziassero questo percorso però ho sentito un po' la fine quando ha detto Marco è questa è una persona seria una persona di principi una persona poi sai per avere i principi è se sei uno anche magari parla cosa sei più personaggio e magari fa un'intervista dove magari riesci a dire la battuta perché sei più simpatico del genere magari passi un messaggio e la gente è ancora più accattivata dal personaggio perché ora è tutto mediatico Marco Giampaolo una persona serissima una persona di di principi una persona che non si piega e non piega la schiena senza urlare ha fatto una carriera importante sembrava potesse diventare veramente allenatore prodigio e potesse allenare la Juve di Roma però lui magari quello non è riuscito a farlo perché è arrivato due volte secondo e nel calcio non arrivi secondo è come arrivare ultimo poi dopo ha avuto dei percorsi io lo so dove ha battuto la testa perché è una persona che non si piega ma io so del suo valore in campo so che in campo secondo me è uno dei allenatori più preparati in assoluto e c'è in Italia e io spero che qui ritrovi quella voglia e quel gusto di allenare in un ambiente sano dove troverà gente che li vuole bene e che lo mette in condizione di allenare poi sarà a noi cercare di fargli una squadra al massimo che sia competitiva per le nostre esigenze però io sull'allenatore insomma l'unica certezza è che ho l'allenatore perché ho trovato una persona veramente entusiasta e con qualità tecniche di livello importante. Mercoledì un incontro importante con il Napoli si parlerà di Val di Fiori credo e non solo? Ma guarda di essi parlerà non lo so perché fra l'altro penso anche penso sia difficile perché non so cosa ha in testa il Napoli nel senso è vero c'è questo incontro è vero che si vedranno i presidenti e secondo me quando si vede il presidente giusto si vedono i presidenti perché ci mancherebbe altro però saperti dire cosa può passare il Napoli in questo momento non lo so quindi da lì partiremo sicuramente il nostro mercato dovrà iniziare con calma non vi aspettate nomi in serie perché se abbiamo fatto un errore in questi anni abbiamo analizzato è stato quello forse il primo anno specialmente perché il primo anno presi dall'impeto magari dove fa la squadra abbiamo preso tanti ragazzi giovani perché aveva paura di perdere e poi ci siamo resi conto che poi qualcuno non era pronto e qui poi quando prende un ragazzo diventa una gestione anche difficile quando vede non è pronto quindi non abbiamo furia di mettere ragazzi però prima dobbiamo vedere chi rimane fare la punta vedere chi rimane da lì ripartire quindi aspettiamo questo incontro e da lì capiremo cosa chiederanno se ci saranno condizioni perché queste cose si realizzeranno quindi non so dirti veramente cosa c'è nella testa del Napoli perché come ha detto il presidente corsi si svuota una casella e riempiamo la non faremo niente che possa andare a mettere un doppione in casella appunto no ma quello guarda abbiamo analizzato questi tre anni importanti e questi tre anni straordinari dove sono state fatte cose importanti ma le cose belle inutile sono lì sono lì incorniciate e rimangono abbiamo fatto anche degli errori abbiamo analizzato dove possiamo aver sbagliato e forse abbiamo sbagliato in quello di dalla paura di prendere tanti ragazzi e poi di questi ragazzi quando non erano pronti poi dopo la gestione di un'interfice non vorremmo fare un gruppo di 20 22 giocatori che però si sentino partecipi di questa grande avventura andiamo a fare quindi non abbiamo assolutamente furia di mettere dobbiamo vedere chi rimane soprattutto chi rimane con entusiasmo perché se qui pensano qualcuno di rimanere sarificati fa bene a non venire perché sarà un problema grosso perché sicuramente questo lo garantisco chi ritorna il 13 quando parte di tiro se ha degli atteggiamenti da sarificare e roba del genere fa bene a stare a casa perché qui troverà un ambiente veramente ostile nella mia figura perché lì sono veramente cattivo io sarò una persona che darò sempre il massimo e darò tutto me stesso a chi è in difficoltà ma chi ha entusiasmo e serietà sono una persona anche cattiva in tutti i sensi a chi verrà qui con presunzione o che si sentirà magari non al posto giusto perché si senta importante si sente magari di essere un giocatore da altri club se hanno questa intenzione fanno bene a stare a casa chi parte il 13 deve partire con grande mentalità perché noi entrambi abbiamo da fare una nata straordinaria dobbiamo andare a marco un contributo di entusiasmo importantissimo perché se non lo faremo saremo persone può essere l'esposta secca pelagotti può tornare per restare pelagotti stiamo pensando siccome un ragazzo ci sta manifestando un entusiasmo incredibile ne parlavamo prima anche col miste e nella nostra testa può darsi anche il toni pela con un altro portiere perché pela ci sta facendo capire che il suo sogno sarebbe tornare e mettersi a disposizione questo è già un bel punto di partenza poi faremo altre valutazioni però è una condizione si potrebbe anche avverare per chiudere ti chiedo tre nomi uno per reparto che stuzzicano un po la fantasia ceppitelli biarnason galano sono tre figure che potrebbero rientrare nel nell'ordine delle idee allora noi sicuramente dietro dovremmo fare tante cose perché abbiamo perso rugani perché perché nella nostra testa l'impoli dovrebbe ripartire da due partenze nel senso noi vorremmo partire vorremmo con Mirko Vardifiori abbiamo un impegno un impegno anche morale perché è giusto perché poi nella vita una società per essere seria deve mantenere anche gli impegni a noi sarebbe garbato anche proporre a Mirko di una certa discorso di finire la carriera qui di dargli una serenità economica che lui potesse star qui però non sarebbe stato giusto quindi noi partiremo da Vardifiori e Isai perché secondo me Isai un 94 è un ragazzo e anche perché lì abbiamo Laurini e quindi noi pensiamo di averci già un ragazzo potenzialmente un titolare quindi ci sembrerebbero due movimenti uno va fatto in tutti i modi perché se no non manteremo l'impegno con Mirko poi cercheremo di valorizzarlo il più possibile però insomma sicuramente lo daremo Isai perché abbiamo dietro Laurini e noi vogliamo ripartire la prossima stagione con Vincent quindi questi sono due poi quelle succederanno nel mercato non lo so in difesa dobbiamo mettere diversi ragazzi perché sia sugli esterni e cui sui centrali andrà messo tre o quattro ragazzi e quindi Cepitelli è un nome però non abbiamo neanche mai pensato che lo volevamo l'anno scorso non c'è stata l'opportunità vorremmo mettere una o due una mezzala potenzialmente se Vecino non ce la facciamo e penso di no perché ora il fatto di andare via Montera su me Vecino rimane a Firenze quindi una mezzala e un altro insieme a Ronaldo davanti alla difesa vorremmo tenere Saponara questo è tutto quello che vorremmo fare e vorremmo mettere un'altra attaccante giovane di prospettiva che vada a rinforzare l'attacco questi sono i ruoli dove vorremmo intervenire i nomi sono tutti i nomi bellini le dcp però non abbiamo ancora iniziato a sondare il terreno Grazie a tutti Grazie a tutti